BAP è arretrato anche il foto 2L con il favorito 1,28 la quota al totalizzatore macchina che BAP va a staccare si porta al comando Vizio Joy che precede in costruimento il numero 1 di Osis Staff poi all'esterno rimasta il numero 7 di Allolite e Simprime intanto Osis Staff va a chiedere in strada a Osiris, 14 per il primo paletto e siamo adesso al completamento, continuo in 400 metri, 29,2 ci vado anche in tribuna con Osis Staff alla comando nei confronti di Osiris Joy e poi ancora Oxygen Day con la risalita di anche il foto 2L che da questo centro il 44.3 va a gravitare al lato del battistrada quando Sian ora si va piegata di destra Santo Asi Staff alla comando anche il foto al suo sediale con 59,8 il passaggio agli 800 metri con la seconda posizione della corda Sian per Osiris Joy poi la seconda paniglia presa da Oxygen Day il chilometro passa in 1.139 con adesso l'attacco a fondo da parte di Onkelfoto VL che cerca di sopravanzare prima della piegata Osis Staff ecco il foto è passato ai tre quarti di minuto in 1.277 con 3.19 persone sono l'attacco a presa 1 a mezzo adesso si fa vedere anche Oxygen Day più indietro il numero 6 di odessa a dentro quando stiamo all'attacco a fondo della piegata ecco il foto alla comando Osis Staff all'interno poi Oxygen Day e ancora il nostro desiderio adesso adesso si cerca di andare su Oxygen Day per l'attacco poi addirittura attacca anche Onkelfoto che si accusa un pochino nel finale e adesso adesso è il finale viene a concludere su Onkelfoto VL